Rimedi permanenti per tutti i tuoi problemi di capelli a casa In questo mondo attuale, pieno di stress e tensioni mentali, i problemi dei capelli dovuti a questi fattori sono diventati più comuni al giorno d'oggi. Ma molti di loro, a prescindere dal loro tipo di capelli, hanno affrontato almeno un comune problema dei capelli ad un certo punto della loro vita. Anche se la caduta dei capelli è abbastanza comune, può essere una cosa dura da vivere, specialmente quando cambia il tuo aspetto. Non c'è niente di più attraente di una folta chioma che brilla di salute naturale. I capelli sono di diversi tipi. Può essere ondulato e lungo, corto e dritto, riccio, crespo, crespo o lucido e liscio. Tuttavia, avere capelli sani diventa più difficile nell'ambiente di oggi. In questo articolo, parlerò di alcuni dei più comuni problemi di capelli che affrontiamo spesso e trovando rimedi per quei problemi e anche i modi migliori per far crescere i capelli sani e più spessi. Non saltare per visualizzare questo articolo intero e dare un blocco completo per tutti i tuoi problemi di capelli e trovare i migliori risultati il più presto possibile. La forfora è uno dei problemi più comuni dei capelli che si possono soffrire è un disturbo del cuoio capelluto comune che è causato a causa di pelle grassa irritata, infezioni fungine e batteri sul cuoio capelluto. Spesso si notano alcuni sintomi comuni quando si verifica la forfora, tra cui prurito del cuoio capelluto o formazione di scaglie di pelle secca. Questo problema causa non si curo in una persona. Alcuni possono sentirsi imbarazzati quando escono con i loro cari. La forfora può essere frenata seguendo una routine di cura dei capelli sana e la procedura si applica lo yogurt al cuoio capelluto e attendere per circa 15 a 20 minuti, è inoltre possibile aggiungere pepe nero macinato fresco, due cucchiai, allo yogurt. Finalmente lavare i capelli con shampoo anti-drandruferi e sciacquare abbondantemente. Ripeti questa procedura due volte alla settimana per ottenere risultati migliori. Un altro problema comune di capelli che potresti affrontare sono le doppie punte. Un regolare raddrizzamento, asciugatura, può danneggiare i capelli, renderli estremamente asciutti lasciandoli rotti e ingestibili. Il calore eccessivo e lo stealing possono causare doppie punte ai capelli e danneggiare i capelli. Ci sono poche altre cause di capelli secchi. Lavarsi i capelli troppo spesso usando uno shampoo duro. Esposizione al vento, al sole e all'aria secca, scarsa nutrizione, eccessiva asciugatura o utilizzo di ferro stirante, utilizzo di colorante a base di ammoniaca o colorante per capelli. I nostri capelli hanno bisogno di umidità. Quindi applica alcuni oli naturali per capelli fatti in casa come l'aggiunta di polvere di amla, foglie di carri, succo di limone con olio di cocco separatamente o insieme, inoltre funziona bene e applica olio di senape, olio di ricino, olio di sesamo con polvere di semi di fieno greco con l'olio di cocco. Prima di aggiungere questi ingredienti freschi con l'olio di cocco, assicurarsi di riscaldare l'olio e tenerlo da parte per 3-4 minuti e riscaldarlo. In questo modo puoi mantenere i tuoi capelli forti e sani. Sai cosa non usare sui tuoi capelli? Quando il tuo obiettivo è far crescere i capelli velocemente, è importante prestare attenzione ai prodotti che usi. Molti prodotti contengono sostanze chimiche che possono danneggiare i capelli e farli asciugare. Utilizzare prodotti che sono composti principalmente da ingredienti naturali. Evita i prodotti che contengono solfati presenti nello shampoo, sono detergenti aggressivi che rimuovono gli oli naturali dai capelli e li asciugano. I siliconi si trovano nel condizionatore, che non è un ingrediente naturale e fa male ai nostri capelli. È una finta docentezza della plastica. Alcoli presenti nella lacca per capelli, gel e altri prodotti per lo stealing, questi asciugano i capelli. Per mantenere l'umidità nei capelli, dovresti provare a seguire alcuni di questi suggerimenti. Limita l'asciugatura e l'uso di ferri caldi. Non lavare i capelli tutti i giorni a meno che non si verifichi una condizione di cuoio capelluto come la forfora. Ogni volta che si lavano i capelli, utilizzare uno shampoo delicato con condizionatore per portare l'umidità nei capelli. Strofina il cuoio capelluto con oli essenziali. Alcuni oli essenziali hanno dimostrato di aiutare a stimolare la crescita di nuovi capelli. Versa 5 o 10 gocce di olio sulla punta delle dita e massaggia l'olio su tutto il cuoio capelluto. Puoi provare uno di questi oli essenziali come la menta piperita, che migliora la circolazione. Olio dell'albero del tè, che lenisce il cuoio capelluto e aiuta a migliorare la forfora. Olio di limone, che promuove la crescita sana dei capelli. Inoltre, massaggiare il cuoio capelluto con oli per capelli appropriati contenenti l'uva spina indiana altrimenti noto come amla, fieno greco noto anche come meti. Gelo succo di aloe vera e radici di liquirizia. Fare un trattamento di condizionamento dell'olio. Questo ha il duplice scopo di aiutare a promuovere la crescita dei capelli e mantenere i capelli forti e morbidi. L'olio di cocco, l'olio di oliva, l'olio di mandorle e l'olio di ricino sono pensati per aiutare a crescere i capelli spessi e forti. Fare un trattamento di condizionamento. Per l'olio d'oliva, avere i capelli umidi e distribuirlo sui capelli e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto per 4-5 minuti. Bagnare i capelli e massaggiare da 1 a 2 cucchiai di olio nel cuoio capelluto per 5 minuti. Passa le dita tra i capelli per distribuire l'olio dalle radici alle punte dei capelli. Coprite i capelli con una cuffia da doccia e lasciate assorbire l'olio per un'ora e lavate i capelli normalmente. Rompi un uovo in una ciotola e battilo leggermente. Mescolare 2 cucchiai di yogurt bianco e un cucchiaio di miele. Applicare sui capelli bagnati per 20 minuti. Shampoo i capelli delicatamente per lavare la maschera. Ci sono molti modi per incoraggiarlo a crescere velocemente, sano e forte. Mangiare una dieta sana e ben bilanciata può anche incoraggiare i capelli a crescere. Più importante Assicurati di prenderti cura dei tuoi capelli per evitare danni. Mangia un sacco di proteine. I capelli sono per lo più composti da proteine, che lo rendono il componente più importante di una dieta sana per capelli. Esamina la tua dieta e assicurati di assumere molte proteine ogni giorno. Quando la tua dieta è carente di proteine, il tuo corpo non produce tanti capelli. Mangia carne magra, pesce, uova e latticini ad alto contenuto proteico. Fagioli, verdure a foglia verde e tofu sono buone fonti di proteine per i vegetariani. Mangia biotina. Questa vitamina B è essenziale per la crescita dei capelli. Poiché si trova principalmente nei prodotti di origine animale, i vegetariani e i vegani spesso scoprono di avere una carenza di vitamina B per assicurarti di avere un sacco di vitamine del gruppo B. Deve avere uova, noci, salmone, avocado, prodotti a base di carne e crusca di frumento. Mangia vitamine A e C. Queste vitamine aiutano i capelli a rimanere lucidi e sani. Quando non hai abbastanza vitamina A o C, i tuoi capelli possono diventare deboli e opachi. Assicurati di mangiare un sacco di patate dolci, carote, zucca e zucca, che sono tutte ricche di vitamina A. Broccoli, verdure a foglia verde, peperoni e agrumi, che contengono elevate quantità di vitamina C. Rimani idratato. Quando il tuo corpo è disidratato, si manifestano i tuoi capelli. I tuoi capelli possono diventare secchi e inclini alla rottura. Porta con te una bottiglia d'acqua per tutto il giorno, così non dovrai mai più sette. Utilizzare un metodo naturale di tinture per capelli che non causano danni. Prova a schiarire i capelli con il miele. O tingendolo con l'enne. Impara ad amare il tuo aspetto naturale. Quando esci sotto il sole forte, indossa un cappello per coprirti i capelli. Se vivi in un luogo con un alto inquinamento atmosferico, copri i capelli con una sciarpa o un cappello mentre sei fuori per le strade della città. Quando fai il bagno nelle piscine, indossa una cuffia per proteggere i capelli dal cloro. Alcune maschere per capelli naturali possono essere preparate a casa per trovare rimedi per i tuoi problemi di capelli. Sono maschere di uova, yogurt con maschere di pepe nero, maschere di pasta di fieno greco, maschere di banana, maschere di avocado, fiori di ibisco e maschere di foglie di carri verde fresco. Per ottenere capelli lisci, puoi usare l'acqua fredda per lavare i capelli, non tutti i giorni, usare shampoo senza solfati come già menzionato in questo articolo, usare latte di cocco e applicare regolarmente olio di cocco, risciacquo con aceto, applicare gel di aloe vera, maionese, olio d'oliva, miele, dieta sana e molta acqua. Grazie per aver guardato il nostro video. Si prega di condividere e sottoscrivere questo video.